Che cos'è questa? Questa è la caratina per ammorbidire un attimino il crespo Questo è l'olio di argan, giusto, che è una promozione fantastica Abbiamo tolto il crespo facilmente usando le goccine e adesso con un po' di lacca Questa è leggera Adesso mettiamo proprio un filino Grazie per la visione! Grazie per la visione!